Buongiorno a tutti ragazzi, qui Arduino Schenato da iarforex.com e in questo video voglio mostrarti qualcosa che è successo negli ultimi tempi sui grafici dell'ultima settimana e che va a dare un esempio abbastanza pratico di quando io vado a discutere del fatto che la price action non è automatizzabile la price action non è una tecnica dove creati due pattern si può creare il sistema di trading che vada solo perché la price action è un metodo di trading che va approcciato in un certo modo e il ragionamento rispetto ad alcune dinamiche che solo il nostro, solo la mente umana, solo noi con l'esperienza con il nostro background, con i nostri studi possiamo fare e avere quindi voglio mostrarvi alcune cose, in questo caso proprio su alcuni mercati prendo l'euro dollaro e il gold, due mercati che io seguo, che trado tra l'altro non ho anche un trade, il gold e voglio mostrare proprio che cosa è successo insomma nelle ultime giornate allora, la pin barra, la barra pinocchio, la barra che ci mostra e ci dà un input di un certo tipo graficamente è quella barra che potrebbe essere diciamo descritta in maniera molto molto così generale come una barra di questo tipo a livello grafico quindi una barra che ha poco corpo, che ha un lungo spike e che ci mostra quindi vendite che sono arrivate dopo aver fatto dei massimi quindi una bugia ecco perché pin bar durante la sessione va bene, non è questo il punto questa qui diciamo che nell'ottica di trading avrebbe avuto senso, assolutamente sì ma molti di voi mi hanno chiesto ma questa qui, oppure ho visto dire insomma questa è un qualcosa che si può tradare nell'ottica di trading eccetera ricordiamo sempre che la price action non è un segnale la price action non è un pattern grafico è anche quello ma non è solo quello è uno delle caratteristiche è uno degli ingredienti della torta diciamo quindi noi dobbiamo andare a vedere che cosa sta succedendo qual è la struttura del mercato da dove arriva il mercato qual è l'ultimo swing la volatilità che tipo di tendenza macro su grafico weekly c'è cioè ci sono tante cose che dobbiamo andare ad osservare in questo caso è ovvio che mi trovo di fronte a un grafico che è un weekly di questo tipo quindi la nostra mappa di trading la nostra mappa dei prezzi ci sta indicando una certa tipo di tendenza dei livelli di tenuta molto molto chiari come in questo caso i livelli verdi che vedete qui l'area 1.17.60 molto chiara sul grafico e poi alla fine c'è stato proprio settimana scorsa tra l'altro questo pattern che però diciamo è stato fatto poi alla fine quindi lasciamo perdere l'ultimo ma in questa situazione è ovvio che io una barra che assomiglia graficamente a una pin come può essere questa devo andarla a verificare devo andarla ad approfondire devo capire che tipo di struttura ho prima e che cosa mi può dare realmente questo tipo di indicazione grafica se noi andiamo a prendere questa indicazione grafica questa informazione noteremo che è nei pressi dell'area bassa di un trading range sporco ma di un trading range quindi c'è un trend rialzista la parte bassa è l'area 17.60 la parte alta diciamo è 1.19.50 nei 20 questa zona qua ok? quindi arriva nella parte bassa perché in area 1.18 si forma questa barra quindi arriva in un'area più da comprare che da vendere tra l'altro in un trading rialzista e arriva in un'area diciamo che non ha senso nel senso che arriva in mezzo a un range di prezzo e quindi se la PIMBAR mi deve indicare un falso movimento verso in questo caso l'alto dei falsi massimi una falsa rottura una bugia del mercato in questo caso non c'è nessuna bugia cioè quello che mi sta indicando chiedendoci sempre la domanda che cosa è successo su questo mercato è durante la sessione c'è stata forza rialzista che è poi stata ripresa ma non c'è stata una vera e propria fake out di alcuni livelli importanti cioè arriva un po' in mezzo a nulla come si dice se fosse stata che si fosse creata la situazione magari con una candela in più di ritracciamento e poi si fosse creata una nuova barra un po' come questa che sfalsava questi e andava a ritestare un eventi era diverso completamente diverso il discorso e quella roba lì allora poteva essere identificabile come un tipo di PIMBAR che si poteva cercare poi di tradare magari con delle conferme per esempio su grafico a 4 ore ma si poteva tradare nel caso di specie qui invece no perché in questo caso siamo di fronte a una struttura dei prezzi che non sta indicando questo qualora fossimo andati o si andava al di sotto di questa zona ma principalmente di questa mi sento di dire perché è questa l'area di pavimento e anche di supporto tecnico e anche di domanda quindi è un'area importante dove il mercato è sempre stato comprato allora andavamo sotto magari con una chiusura in volatilità dei lì sotto questo ci stava indicando probabilmente che per i prossimi giorni ci poteva essere un ritracciamento più ampio nei prezzi dell'eurodollare quindi quando io vado a investire sull'eurodollaro posso pensare di investire short sull'eurodollare con l'idea di guadagnarci dei soldi ecco se devo fare tanto così perché c'è un segnale e mi butto è ovvio che il trading non sarà mai profittevole quindi a livello tecnico è molto importante riconoscere quali sono le situazioni che hanno senso da quelle che non hanno senso al di là che la candela graficamente potrebbe essere un qualcosa che fa parte per esempio del mio piano la price action vera non è questo in giro poi oggi su youtube in giro vedo un mare di di titoloni facciamo trading con la price action eccetera insomma per parlare di price action bisogna tradarla danni farla viverla e chi fa i price action ha una filosofia proprio di trading ma anche di vita che è diverso quindi insomma ci sono tante puttanate ecco volevo dirvi questo scusate la parola ma cercate di capire un po' dove si affrontano le cose in modo più serio non c'è una chiave che apre tutte le porte dobbiamo sempre ragionarci su i pattern che usa la price action possono essere interessanti ma non pensate che c'è il pattern che ogni volta che lo tradate fate canestro e la palla vi va in buca o comunque fate profitto no bisogna ragionarci su ecco che io ho fatto su l'oro per esempio un trade condiviso nel canale telegram del gruppo platinum della scuola platinum anche in questo caso vedete cosa avevamo avevamo una struttura rialzista avevamo un pavimento molto importante in area 1900 1915 settimana scorsa si è venuta a creare una vera pin bar eccola qua tra l'altro anche il site fake out quindi pin bar falsa rottura livello di supporto livello di pavimento chiave dei prezzi qui si è formato una barra che per alcuni poteva sembrare una pin bar di ribasso è ovvio che questa quando si è venuta a creare non mi ha dato nessuna idea che potesse esserci un vero e proprio ribasso cioè è un tipo di barra come è successo anche per l'euro dollaro che ha avuto uno sfogo c'è stato un ritracciamento durante la giornata non c'è stata nessuna falsa rottura di nulla non c'è stato nessun tocco di livelli importanti non c'è stata nessuna bugia nessun fake out nulla mercato che è andato ha ritracciato ha fatto poi un ritracciamento anche di una giornata in più e poi il prezzo è ripartito addirittura adesso ha rotto anche al rialzo i massimi settimanali che poi sono anche quelli quindi proprio easy la situazione proprio easy quindi per fare price action dobbiamo imparare a ragionarci su ci vuole tempo ragazzi ci vuole tempo per imparare a fare trade in un certo modo non è che facciamo un corso e poi diventiamo trader ci vuole tempo ci vuole immagazzinare informazioni capire queste dinamiche che io spiego per esempio qui le spiego poi anche nel platino durante il corso completo le spiego sempre costantemente da anni dal 2010 che è nata IAR Forex quindi le spiego da tanti anni però è ovvio che se poi una persona ha il primo stop o ha le prime difficoltà cambia metodo poi ricambia metodo e poi intraday e poi quell'altro e poi il DAX e poi questo è ovvio che non combinerà mai nulla quindi diciamo che alla fine se il risultato è quello di essere un trader perdente non date colpa alla metodologia ma date colpa a voi stessi che continuate a switchare fin quando non trovate la bacchetta magica che non troverete mai quindi piuttosto uscite prima dal gioco vi risparmiate soldi tempo insomma potete utilizzare peraltro questo è tutto un video un po' duro forse però questa è la realtà dei fatti la pre-section è questa quindi a ragionare è ragionare ed è ragionare ragionando con competenze formazione esperienza vedrete che un po' alla volta queste dinamiche le farete vostre io vi saluto vi auguro un buon trading simple ovviamente vi chiedo di mettere un mi piace nel video di iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto e ci vediamo al prossimo ciao a tutti